Ciao sono Grazia e sono felice di poter fare questa testimonianza perché anch'io faccio parte di Bella in Forma per sempre da poco tempo ma mi son trovata praticamente subito a mio agio proprio per il fatto che cercavo qualcosa che non fosse né una palestra perché non ho tempo di seguire una palestra e né un personal trainer perché dovrei seguirlo con tutti gli orari e spostarmi e avere comunque tempi di movimento per poter raggiungere comunque il posto e quindi con questo corso Bella in Forma per sempre mi son ritrovata davvero stupita perché non pensavo che davanti a un computer, davanti a un iPad o un telefono a seconda di dove ti trovi potevo allenarmi in maniera funzionale e intensa infatti gli esercizi sono tostissimi Marco è molto bravo perché è come se fosse lì con te, è come se fosse un personal trainer quello che tutti noi aspiriamo, avere una persona che ci dica cosa fare e come farlo ogni esercizio singolo viene mostrato direttamente per ogni sessione quindi non c'è margine d'errore possiamo tranquillamente farli da soli senza alcun problema con Marco lì che comunque ci incita e ci dà valore infatti oltre alla parte fisica c'è tanto valore di parte mentale lui ci dà dei consigli sulla parte alimentazione che sono molto molto utili e soprattutto sulla parte motivazionale mentale quella è una delle forze di questo corso perché grazie a quella possiamo renderci conto di qual è lo scopo per cui stiamo lavorando con Marco e soprattutto raggiungere i risultati che tutti noi vogliamo poi è molto bello perché c'è un gruppo facebook dove possiamo ritrovarci tutte per condividere i nostri risultati e soprattutto anche condividere delle frustrazioni del momento magari non riusciamo a fare bene un esercizio o ci troviamo in una situazione un po' tosta soprattutto all'inizio per chi non non si muove da tanto tempo e quindi diventa davvero una condivisione molto molto bella e soprattutto di forza tra noi donne quindi questo è bella in forma per sempre ve lo consiglio soprattutto perché cambia il fisico dopo pochissime settimane vedrete risultati subito non c'è bisogno di fare due ore tre ore al giorno di palestra per rendersi conto di quello che di come il corpo cambia quindi ve lo consiglio entrate in veri in forma per sempre e ci vediamo direttamente lì insieme